Ciao a tutti, siamo pronti in Calabria, ci saranno le elezioni regionali, ma noi ci incontriamo il 27 settembre a Tropea, alla Biblioteca Comunale, alle ore 18. Vi aspettiamo per parlare dei risultati del Movimento 5 Stelle e delle battaglie fatte in Calabria, ci sarà con me Nicola Morra e anche Alessandro Di Battista. Quindi non potete che essere presenti, lo ripeto, il 27 settembre a Tropea, in Biblioteca, avrete modo di farci tutte le domande che vorrete porci, perché è giusto che noi si dia conto di quello che facciamo. Se ce la fate, portate anche degli amici e dei parenti scettici, se ognuno di voi riuscisse a portare due o tre persone saremmo tantissimi, i giornali ne parlerebbero e comunque sarebbe positivo per tutta la Calabria. E comunque vinciamo noi. Vi aspettiamo. Ciao. Per chi non lo sapesse, ricordo che il regolo denunciò con coraggio le pressioni subite per togliere dall'ora della Calabria la notizia scomoda di un'indagine a carico del figlio del senatore Tonino Gentile, allora fresco di nomina al sottosegretario delle infrastrutture del nuovo centrodestra, il partito dell'ignaro ministro dell'interno Angelino Alfano e del governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, condannato per falso di missionari a giorni alterni eppure oggi candidata alle europee. In rete è diventata famosissima la grottesca telefonata dello stampatore De Rose che invitava il proprietario del giornale, Alfredo Citrigno, a liberarsi di quella notizia. Allora, per riassumere, decine di giovani giornalisti sfruttati per anni rischiano il posto di lavoro e il futuro a causa di uno squalido gioco di potere tra una parte politica e un pezzo dell'imprenditoria malata calabrese. Soprattutto l'informazione in Calabria deve essere davvero la protagonista di un'emancipazione sia dall'andrangheta che dalla cultura andraghetistica. Noi ci crediamo che sia questo il compito dell'informazione e che proprio dalla Calabria deve ripartire il senso e il ruolo dell'informazione stessa. Il mondo dell'informazione è malato da tempo immemorabile in Calabria di una malattia che si chiama servilismo e che è anche peggio dell'adulazione. Per cui anche quando non richiesto l'atto di abiezione è comunque posto in essere dallo stesso editore, dallo stesso giornalista perché così vanno le cose. Quello che ho scritto ieri è un inno alla pace totale, evidentemente è stato interpretato differentemente ma funziona un po' così il sistema, funziona così. Chissà che tante persone quando vedono che è così violento l'attacco perché stavolta per me, a me non mi è scivolato addosso, spesso certe cose. Quando esattamente l'anno scorso dissi il PD è peggio del PDL, fuori ladri dal Parlamento, vennero molte persone di Forza Italia, alcuni a minacciarmi, alcuni mi dissero moralista del cazzo perché ho detto fuori ladri, moralista del cazzo. Uno mi disse Di Battista non generalizzi, noi di Forza Italia non siamo tutti ladri, disse questa frase, ve lo giuro, ve lo giuro. E allora gli disse Onorevole mi dica chi lo è e chi non lo è e lui ha capito e se n'è andato. Quella volta mi scevolo addosso, invece gli attacchi di quest'estate mi hanno fatto proprio male, a me e la mia famiglia, io chiamai mia mamma, lei lacrime dicendo non sai che scrivono, che dicono. Insomma ho capito che il sistema quando vuole provare a eliminarti, un tempo che ne so ti facevano fuori negli anni 70 proprio a pistolettate utilizzando qualche delinquente, oggi utilizzano i media, cioè ti fanno fuori così. Per citarne un'altra, i fatti di Gaza è stato dato meno spazio di quanto la strage avrebbe drammaticamente meritato e su questo anche c'è stata interrogazione e risposta. E quindi questi sono i motivi, alcuni dei motivi per cui abbiamo chiesto le sue dimissioni. Il Movimento 5 Stelle vuole un'informazione che sia degna di questo nome, ormai lo ripetiamo da oltre un anno e mezzo, che sia obiettiva e che sia completa. Insieme ad altri cittadini, Toscano, Catanoso ed Evoli hanno inviato comunicati stampa ed in rete hanno diffuso vignette che raccontano della foga di costruire quella centrale inutile e dannosa per la salute dei cittadini. Il messaggio che sta dietro questa vicenda è sempre il solito, colpirne uno per colpirne altri cento, soffocare il dissenso e spaventare i comuni mortali. Nella società odierna queste azioni sono una vera e propria prova di muscoli, sfidare nei palazzi della giustizia le popolazioni in disaccordo. Il più forte ovviamente ha mezzi più potenti, quindi il tentativo è quello di piegare il più debole e di convincerlo che resistere non conviene. A questo punto la 6SPA faccia una cosa, faccia causa anche a noi parlamentari del Movimento 5 Stelle che abbiamo interrogato il governo sulla centrale a carbone di Serine Ioni, che lo faccia. Tra le vertenze da affrontare, quella dei 131 lavoratori di Calabria IT, anche su questo la posizione è netta. Noi pretendiamo che il Presidente del Consiglio regionale, Talarico, si faccia garante di revocare i licenziamenti di 131 dipendenti di Calabria IT e che questi dipendenti vengano riassorbiti in Fincalabria, così come prevede la stessa legge regionale. Dopodiché De Rose se ne deve andare a casa, bisogna procedere ad una nuova nomina con criteri di trasparenza pubblica e che questo avvenga subito. Forse al Ministero dell'Interno nessuno sa chi è il Ruello, lo so bene io che vengo dalla sua stessa provincia. Grazie alle sue testimonianze e alle sue denunce, queste sue denunce hanno consentito la condanna di potenti esponenti della cosca di Indrangheta del Vibonese per casi di usura avvenuti infatti con le modalità del 416 bis del codice penale. Una stabilizzazione cosiddetta per un solo anno è una finta soluzione dei problemi, che che ne possano dire colleghi di altre formazioni politiche. Noi vogliamo l'assoluta emancipazione da qualunque forma di precarietà, questa è la strada del reddito di cittadinanza e per questo motivo Paolo e Dalila si sono battuti con emendamenti, con ordini del giorno che hanno raccolto le istanze del Movimento perché nessuno deve essere lasciato indietro e soprattutto nessuno deve andare a pietire a fine di ogni anno presso il parlamentare, presso il senatore, presso il deputato per ottenere un nuovo anno di servitù. Qua dobbiamo conquistare la libertà per tutti, a cominciare dalla Calabria contro la demagogia e contro il populismo di chi fa politica da vent'anni, conducendo le popolazioni calabrese e i lavoratori calabresi in uno stato di disagio e di degrado immane. Egregio commissario che non c'è, avremmo voluto dirle di persona queste cose, ma non lo conosciamo perché lei non c'è. Il governo dice di volerla nominare, ma poi rinvi ogni giorno come fosse un gioco, tanto in Calabria gli ospedali non hanno medici, i servizi sono all'osso con tutti i vericoli del caso. Come sa, la giunta regionale calabrese è andata oltre l'ordinario, nominando abusivamente alcuni dirigenti delle aziende sanitarie. Tra poco ci saranno le elezioni regionali. La giunta ha così scavalcato il governo, i ministeri della salute e dell'economia, due subcommissari e persino l'avvocatura dello Stato, per i quali quelle nomine erano illegittime. Il governo ha promesso rimedi, ma non abbiamo visto ancora niente. Antonella Stasi, attuale governatore della Calabria, ha detto che la regione ha potere esclusivo sulla sanità. Questo è falso, perché la Calabria è commissariata per il piano di rientro, che deve togliere i debiti cumulati fatti da gestioni clienterari e intromissioni criminali. In una delibera del 2010, la stessa Stasi aveva sostenuto che è il commissario per il rientro a tenere il timone della sanità regionale. Oggi la Presidente non lo ricorda più, avendo buona memoria solo per le case di cura private, come quelle del marito. Poco fa a Roma. La Presidente facente funzioni Stasi ha mentito ai calabresi. Ha detto che non esiste alcun atto ufficiale che impedisca a questa giunta di nominare dirigenti e commissari. Questo è falso, perché esistono ben due atti ufficiali. Il parere dell'avvocatura dello Stato, che scrive nero su bianco, che questa giunta non può procedere con le nomine delle aziende sanitarie provinciali. Ed esiste anche un altro delibera, addirittura firmato dalla stessa Stasi, che dice chiaramente che le nomine in materia sanitaria le fa il Governo centrale. Io vengo trattato come se io fossi il criminale, essendo stato invece la vittima. Tenete in considerazione una cosa, che Banca d'Italia in tutta questa storia, da me sempre informata, fa finta di non capire e di non sentire. Perché lì guardate, scusate, vedete che la Banca d'Italia ha un compito istituzionale, legato, datogli anche dalla tutela del mercato pubblico, che il bene tutelato è il mercato creditizio, che è quello di vigilare e tutelare il bene pubblico e quindi i risparmiatori. Io ho detto a Banca d'Italia, non vi ho mai visto fare entrare né dalla porta principale né da quella di servizio i risparmiatori. Voi avete sempre protetto e tutelato i banchieri, che dovevano essere invece coloro i quali voi vigilavate affinché non rubassero. E sulla questione giustizia, in un servizio andato in onda, mercoledì 27 agosto abbiamo detto che i Cinque Stelle non hanno partecipato agli incontri e non hanno neppure inviato un documento con le proprie posizioni al Ministero, che pure lo aveva sollecitato. La deputata Dalila Nesci, specifica che i rappresentanti del gruppo parlamentare Cinque Stelle, avevano incontrato per ben due volte il Ministro. Il primo giugno sul tema dell'anticorruzione, il primo di agosto sul processo civile, penale e criminalità economica. Pertanto erano già state consegnate al guardasigili, più proposte del Movimento in tema di riforma della giustizia. L'avviso di chiusura a indagini per 36 persone, sindaci, dirigenti dell'ARPACAL e della SORICA, gli indagati a vario titolo per avvelenamento colposo di acqua, in adempimento di contratti di pubbliche forniture, omissione in atti d'ufficio e interruzione di un servizio di pubblica utilità. Le proteste dei cittadini, le interrogazioni parlamentari, un secondo filone di indagine della Procura di Vibo. Sono solo gli ultimi atti della vicenda che coinvolge l'invaso dell'ALA col bacino idrico che serve un'ottantina di comuni tra le province di Catanzaro e Vibo Valencia. Il Movimento 5 Stelle punta nuovamente i riflettori su una vicenda che va avanti da anni, dopo due interrogazioni parlamentari. La prima nell'aprile del 2013, la seconda solo tre mesi fa, e lo fa convocando la stampa alla mezzia. Noi chiediamo che sia subito istituito un tavolo tecnico presso la Prefettura di Vibo e di Catanzaro, al quale chiediamo che partecipi un rappresentante del Ministero della Salute, l'ISPRA, i tecnici dell'ARP non indagati, e ovviamente le associazioni, che sono importantissime per uscire da questo stato emergenziale. Bisogna tornare al servizio idrico integrato e risolvere i conflitti di interesse che riguardano alcuni attori di questa sconcertante vicenda. Primo tra tutti il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, dice il deputato 5 Stelle, Paolo Parentela. Per il senatore del Movimento, Nicola Morra, in Calabria il diritto alla salute è stato calpestato per fare profitto a una situazione che non possiamo più tollerare. Intanto l'invaso dell'ala, quell'impianto di potabilizzazione, restano sotto sequestro. La storia di questi palazzi ci insegna che il potere va avanti come vuole, pensando di poterlo fare senza limiti. Ricapitoliamo. Con fonte primaria, il Governo Monti, sostenuto dalla stessa maggioranza odierna, concesse al Ministero dell'Interno di adottare procedure concorsuali semplificate per risolvere le carenze di organico dei sovrintendenti della Polizia. Parliamo di migliaia di posti vacanti che potrebbero essere dati a migliaia di donne in attesa. La legge lo consente. E voi che cosa fate? State lì a bandire nuovi concorsi, a spendere altri milioni, a trovare giustificazioni impossibili. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto, le irregolarità rispetto al caso De Masi non sono presunte perché De Masi ha vinto in Cassazione. Comunque, signor rappresentante del Governo, la sua risposta non mi soddisfa affatto. Esta non tiene conto, infatti, delle tante persone truffate, usurate e costrette a subire abusi dalle banche. In secondo luogo, la sua risposta non considera a modo l'impunità di chi ha rubato denaro sfruttando commissioni bancarie equivoche, tasti da usura ben nascosti, giochi sulla data delle valute e altri raggiri d'alta scuola. Per ultimo, la sua risposta lascia aperto il libro bianco delle vittime, che da oggi hanno una certezza in più, oltre alla perdita dei loro averi e risparmi. Questa ennesima dolorosa certezza è che lo Stato è forte con i deboli ed è debole con i forti. Qui voglio richiamare l'attenzione dell'Aula e della Presidente Laura Boldrini, del Presidente del Senato Piero Grasso e del Ministro dell'Interno Angelino Alfano, già Ministro della Giustizia, rispetto all'annunciato inserimento in Commissione Antimafia del Senatore del PDL Antonio Stefano Caridi. Questo indicato dal Senatore Schifani, capogruppo dello stesso partito. In una relazione riservata della DDA di Genova, indirizzata dall'allora Presidente della Commissione Antimafia, Giuseppe Pisano, è scritto, e questo lo ha riportato il Fatto Quotidiano, che un'indagine in Liguria sul boss d'Indrangheta, Carmelo Gullace, ha consentito di documentare il sostegno elettorale di esponenti della Cosca, anche con palesi intimidazioni, a favore di Caridi. Noi siamo comunque assolutamente convinti di dover impegnare tutte le nostre energie, perché i cittadini tornino ad essere protagonisti delle nostre istituzioni.